Buonasera a tutti, ben trovati ai presenti, ben ritrovati a chi ci segue ormai da tre sere in streaming. Terza serata di questo percorso che porta OneWorks, Ica Group e San Lorenzo attraverso questa navigazione tra i temi della sostenibilità, sostenibilità di mare, sostenibilità di terra e questa sera esploriamo un campo che è un pochino diverso, un pochino più difficile da confinare ma sicuramente molto più affascinante che quello della sostenibilità letta dal punto di vista dell'arte, quindi del mondo dell'arte e del design. Abbiamo con noi stasera Sergio Buttiglieri che è Style Director di San Lorenzo e Geopolitica è editore e direttore di Flash Art, quindi due persone che Sergio viene da una lunghissima esperienza nel mondo del design, delle aziende di design, è approdato in San Lorenzo ormai svariati i capelli un po' meno grigi fa e la persona che in tempi non sospetti, diciamo così, ha cominciato a far dialogare un mondo che fino a quel tempo era un pochino chiuso dal punto di vista delle ispirazioni creative che è quello della nautica con il mondo invece della creatività tutto tonno, quindi dei designer, dei grandi design e dell'arte in generale. Quindi quello che vogliamo raccontare stasera è come nasce questo passaggio, che cosa ha portato, che quali valori ha portato all'interno del mondo della nautica questa conoscenza reciproca, questa scoperta reciproca e che cosa poi conge anche magari l'arte riesce a imparare, a costruire, a ricreare quando scattano incontri di questo tipo. Quindi io comincerei con Sergio che ci racconti un pochino in sintesi, nonostante il ritardo e ci scusiamo, come nasce questo incontro e perché proprio San Lorenzo è stato il cantiere che ha permesso questa costruzione. Una storia molto piacevole quella che è avvenuta perché nel 2006 casualmente vedo sul Corriere della Sera un annuncio, c'è il responsabile del design di un'azienda che non conoscevo assolutamente, che era San Lorenzo. Vedo dov'è il luogo di lavoro, è a Meglia, vedo dov'è a Meglia e a dieci minuti da Tellaro, io adoro le Cinque Terre, adoro Tellaro, ho detto ma potrebbe interessarmi, vado a fare una chiacchierata con il neoproprietario di San Lorenzo che è Massimo Perotti e nonostante gli dissi che non sapevo dove era la poppa e dove era la prua, lui però vide tutte le cose che aveva... e vedo dove... vede tutti i lavori che avevo fatto in vent'anni in Driade, gli portai tutta una pila di cataloghi, dei grandi cataloghi che Driade faceva in questi vent'anni in cui avevo vissuto a fianco a Enrico Stori che è uno di quei imprenditori che hanno fatto la storia del design italiano e lui accettò questa sfida di introdurmi in San Lorenzo e di cominciare a proporgli immaginari diversi perché io veramente a settembre vado al mio primo salone nautico e rimango veramente imbarazzato perché vedo una disconnessione temporale veramente imbarazzante tra il fermento del design contemporaneo, la qualità che stiamo vedendo anche adesso durante la settimana del mobile e un immaginario stereotipato del lusso, un kitsch raccontato in una maniera dentro gli interni di gran parte degli yacht che vidi a Cannes e a Genova nel settembre 2006 che mi inquietò, dico ma non è possibile vedere questi bellissimi yacht che dentro sembrano delle orride ville alla Casa Monica? Non è possibile. E allora lui Massimo Perotti, di grande apertura mentale in questo mondo perché normalmente nella nautica non vogliono cambiare niente tutto quello che proponi di diverso da quello che hanno sempre fatto è visto di mal occhio almeno in quegli anni lì, adesso cominciano a ragionare visto i risultati finanziari che sta facendo San Lorenzo, anche queste cose e cominciai a proporgli dei grandi nomi del design contemporaneo italiano che incredibilmente nessuno aveva mai chiamato e questa eccellenza assoluta che è la nautica italiana che produce il 50% degli yacht di tutto il mondo era completamente sconnessa dal linguaggio contemporaneo e quindi prima Dordoni, poi Citterio, poi Lissoni, poi Patrice Urchiola tutti personaggi che nessuno si era mai degnato di chiamare e loro hanno avuto l'umiltà di lavorare sugli interni di cui sono maestri assoluti e non mettere in discussione le linee nautiche chiaramente della San Lorenzo che sono dedicate e sono progettate da designer nautici specifici, ingegnerini navali tutta questa operazione è stata di grande successo io sono arrivato in San Lorenzo che San Lorenzo nel 2006, appena acquisito da Massimo Perotti era un unico cantiere e faceva 40 milioni di fatturato 8-10 barche all'anno e adesso abbiamo 4 cantieri facciamo 750 milioni circa facciamo 70-80 yacht dai 24 metri agli 80 metri e siamo in borsa con successo abbiamo raddoppiato anche le azioni e queste operazioni sono riuscite grazie al rapporto diretto con questo imprenditore che io ritengo paradigmatico di come la persona giusta a capo di un'azienda possa fare la rivoluzione come è avvenuto con i grandi nomi delle famiglie che hanno fatto con Cassina, con Zanotta con tutti i vari Gavina insomma tutti gli imprenditori quando hanno in mano l'azienda come Enrico Astori se hanno quella passione verso il design e sanno unire anche il fatturato fanno la grande differenza ti fermo qui e passo a Gea tu hai evidenziato un pochino quello che era il limite di mentalità proprio dell'industria cantieristica di allora e chiedo a Gea è un limite che aveva l'industria o anche il mondo dell'arte e del design in qualche modo faceva fatica a dialogare con questo mondo nel senso oggi le collaborazioni anche il brand che ha citato Sergio sono ormai la normalità quanto questa normalità ha dovuto costruirsi nel tempo quali sono state le difficoltà per arrivare a questo tipo di collaborazioni vincenti guardate dal punto di vista dell'artista io penso che l'arte sia ancora molto indietro dal punto di vista della sostenibilità per esempio primo perché non è tracciabile molto difficilmente l'idea della blockchain per esempio su un'opera d'arte fisica per quanto riguarda le autentiche o le certificazioni non potrà mai esistere perché non è nell'interesse di chi gestisce queste opere quindi galleristi mercanti probabilmente gli artisti vorrebbero un po' più di diciamo trasparenza però è un mondo veramente molto complesso e diciamo rispetto al 2006 qualcosa è sicuramente il tempo è servito insomma sì potevano andare un po' più veloci forse però io penso che diciamo l'arte o comunque ci sono ovviamente degli artisti che sono estremamente consci hanno una coscienza molto forte sui cambiamenti e sulle collaborazioni sicuramente sul fatto che per esempio un'opera non si fa da soli molto spesso ci sono delle poi ci sono ovviamente dei va di caso in caso chiaramente però purtroppo credo che siamo ancora molto indietro sulla parte invece delle delle mostre per esempio delle installazioni delle grandi kermesse internazionali alla fine c'è sempre la corsa l'ultimo momento per arrivare con tutte le opere quindi il problema dei trasporti è complessissimo ancora da risolvere infatti abbiamo creato una associazione adesso che si chiama GCC Gallery Climate Coalition che è nata da questo gallerista di Londra che si chiama Thomas Dane che sta andando molto bene è molto interessante perché sta ponendo molte questioni e sta sensibilizzando moltissimo il mondo dell'arte e abbiamo creato dico perché io ne faccio parte nel GCC Italia e ci sono dei dibattiti continui su come snellire proprio anche tutti questi questi consumi soprattutto appunto per quanto riguarda la parte dello shipping la parte anche di unirsi tutti insieme e magari decidere di fare non so per esempio a Londra tutto un periodo in cui si fanno le mostre insieme quindi se ci sono degli artisti quindi collaborare insieme ma anche di organizzare di mettersi d'accordo anche molto in anticipo su che tipo di programmazione fare prima di arrivare per appunto non arrivare all'ultimo e avere problemi sempre di questi gravi problemi di emissione di inquinamento insomma però devo dire siamo proprio all'inizio ecco al di là dell'artista in sé è proprio tutto il sistema del mondo dell'arte che deve acquisire una consapevolezza una sensibilità maggiore io credo che gli artisti siano molto più consapevoli del sistema perché si pongono appunto delle domande loro individualmente e cercano di rispondere anche alle loro responsabilità verso l'ambiente verso gli altri verso insomma il sistema stesso è il sistema che risponde con molta lentezza perché tutti noi ci siamo posti questa eravamo molto speranzosi durante la pandemia la pandemia ci chiedevamo ci dicevamo anzi finalmente andremo molto più con calma ci fermeremo rifletteremo prima delle nostre azioni ovviamente questa cosa non è accaduta e anzi siamo ancora peggio se posso dire in modo molto esplicito vediamo anche questo salone del mobile che è di sostenibilità scusate ma molto poco anche i giovani designer non so sono stato da Alcova per esempio che è una parte molto interessante sicuramente per la ricerca sul design contemporaneo e diciamo questo mood ceramica è molto carino però non ha nulla a che fare con i quesiti che ci ponevamo un po' di tempo fa soprattutto legati al design infatti per esempio noi lavoriamo collaboriamo anche con Sergio quindi con San Lorenzo proprio perché sposiamo molto le loro il loro pensiero sulla sulla sostenibilità e la navigazione questa consapevolezza degli artisti dipende anche da un carattere molto forte abbiamo visto lunedì con Patrice Orchiola è un dialogo non è una committenza è proprio un dialogo costruttivo questo immagino che mi abbia portato anche tu abbia portato in casa anche delle problematiche nuove nel senso l'artista stimola in qualche modo dell'industria a evolvere a crescere sì io mi sono formato con Arturo Carlo Quintavalle a Palma quindi ho un amore sconfinato oltre che per il design anche per l'arte e quindi appena ho potuto ho cominciato a pensare come far interagire gli artisti anche con i nostri ambienti dato che i nostri armatori spesso sono grandi collezionisti d'arte a volte sono riuscito a fare delle opere assai specifiche per la barca facendo dialogare l'armatore con l'artista e non a caso qui abbiamo Gea Politi di Flash Art perché riteniamo molto importante e interessante avere i loro consigli sulla situazione dell'arte contemporanea internazionale per coinvolgere gli artisti giusti al momento giusto e non a caso settimana prossima saremo a Dar Basel con Arcangelo Sassolino che è l'artista forse più di cui hanno parlato meglio di quest'ultima Biennale d'arte protagonista era protagonista del Padiglione Malta fatto un bellissimo omaggio a un quadro del Caravaggio la Decolazione Battista con un'installazione strepitosa e noi già tre mesi fa grazie a Gea e Cristiano siamo riusciti a coinvolgerlo e sta facendo un'opera assai specific per noi sempre con questa tematica della tensione e del rapporto tra l'acciaio marino e questo oggetto che sta quasi per rompersi ma non si romperà e anche questa mostra che vedete qui in One Works è emblematica di come vogliamo raccontare il mondo della nautica non ci piacciono le solite stereotipate immagini degli yacht con la donnina stesa al sole che fa sempre chic secondo loro noi abbiamo fatto questa mostra per la prima volta a Castello di Lerici in anteprima e poi alla Casa dei Tre Oci a Venezia che è un luogo autorevole della fotografia internazionale ed è un racconto secondo me molto molto forte fatto da Silvano Pupella in cui raccontiamo la bellezza delle forme grezze della barca raccontiamo la qualità del lavoro gli operai che salvano che spostano ed è un racconto di che cos'è una fabbrica colma di grandi artigiani di una qualità assoluta che rendono unica l'Italia rispetto ad altre nazioni dove ci sono altri cantieri ma che ogni volta che arriva un armatore straniero che so che ha i suoi cantieri ma sceglie di spendere milioni di euro da noi in Italia sono orgoglioso e per questo poi questo genera una crescita abbiamo fatto delle scuole un'accademy per formare i giovani per farli diventare i giovani del territorio farli diventare fabbri falegnami elettricisti nautici perché noi abbiamo bisogno di perpetuare questa tradizione pazzesca che ha l'Italia dell'artigianalità noi siamo in rapporto strettissimo con i migliori brand dell'arredamento contemporaneo che c'è un dialogo perfetto perché le aziende italiane hanno una flessibilità unica rispetto ad altre aziende estere ma siamo anche in contatto con delle realtà incredibili noi abbiamo appena realizzato una barca di Cristian Liegre da una falagnameria da dei banisti che nella loro valigetta hanno scritto 1618 per dire quante generazioni stanno che è un po' il racconto che ci ha fatto quando io invitai Enzo Mare uno dei più grandi designer italiani a fare un racconto a visitare un nostro convegno sul lusso dopo tre mesi che ero in San Lorenzo lui emblematicamente disse veramente siete straordinari per qualità e tutto ma non pensate che il design di qualità sia lo schizzetto che fai e da lì nasce una cosa di qualità la vostra la vostra qualità dipende dalla storia del vostro territorio dalle repubbliche marinare dai medici tutto questo poi porta a una qualità superiore rispetto ad altre realtà e quindi sono felice di queste connessioni con l'arte Massimo Perotti mi ha ascoltato subito quando abbiamo cominciato a dialogare perché non siamo presenti anche nei momenti topici dell'arte contemporanea e quindi siamo in esclusiva global partner di Art Basel sia Basilea sia Miami sia Hong Kong siamo stati quest'anno siamo ancora adesso main sponsor del Padiglione Italia in cui Gian Maria Tosatti ha fatto un bellissimo intervento con una carica anche etica molto importante e siamo patron del Guggenheim di Venezia oltre che della Casa dei Tre Oci sono tutte cose queste connessioni alla fine producono ancora più qualità e diamo anche sostegno alle eccellenze culturali del territorio come il premio Lericipea Golfo dei Poeti in cui ogni anno premiamo una grande poetessa quest'anno premeremo la Louise Gluck premio Nobel 2020 e la premeremo dentro al cantiere in mezzo alle barche in costruzione premeremo i giovani poeti al circolo velico di Lerici coinvolgendo i giovani di San Lorenzo che inviteremo a assistere alla premiazione fatta da Giuseppe Conte un grandissimo poeta italiano eccetera queste connessioni fanno ulteriore qualità secondo me infatti questi punti di contatto sono evidenti guardando le foto di Silvano Pupella emerge tanto quanto artigianalità e arte il filo sia sottilissimo la distanza sia impercettibile chiedo è così nel senso quanto negli artisti nel fare arte di oggi c'è ancora questa consapevolezza artigianale che era poi Leonardo da Vinci era un artigiano artista era questo mix perfetto quanto questa cosa vive ancora negli artisti di oggi io credo che sia tornata molto questo approccio artigianale ovviamente adesso c'è il boom degli NFT non ci dimentichiamo quindi chiaramente quelli vanno alla grande e non esistono chiaramente andranno rimanendo alla materia esatto andranno sempre di più in questo momento ci sarà questo boom adesso che sappiamo bene incontrollabile però in realtà c'è tutta una parte ad esempio poco tempo fa ha inaugurato questa mostra molto bella un'artista americana che si chiama Annika Yi all'Hunger Bicocca e lei utilizza solo materiali di scarto organici addirittura quindi cose che appunto alveari situazioni ovviamente in disuso nel senso non più utilizzabili per un motivo o per l'altro però sono sicuramente per esempio un artista che adesso fa il moma insomma c'è molta attenzione su questo tipo di pratica e questo ritorno non proprio solo in realtà all'artigianità ma appunto all'organico forse un po' diverso mi rendo conto però anche forse sempre per via della pandemia gli artisti sono tornati o appunto hanno imparato ad avere un linguaggio digitale oppure sono tornati in qualche modo alla tattività alla fisicità per cui diciamo c'è molta più lavorazione artigianale ma lo si vede anche nel design secondo me per esempio appunto adesso non voglio ritornare su Elcova ma c'è molta artigianalità poi che appunto ci sia stato anche un'attenzione particolare sull'ambiente questo è un mio pensiero ovviamente sicuramente c'è tantissimo un ritorno alle origini a un rapporto anche un po' primordiale con la materia quindi si lasciano molti errori che sono chiaramente la cosa più interessante il disturbo dell'errore insomma sicuramente diciamo l'artigianalità è come anche forse nella moda si può vedere molto con tutti questi meta progetti o queste capsule molto piccole dove si torna a questa idea dell'autocouture o dell'utilizzo del tessuto che insomma sta andando sta tornando tantissimo è un ritorno un po' alle origini anche nell'arte io penso che tanti i mondi vadano un po' sempre a pari passo senti questo dialogo tra San Lorenzo e designer San Lorenzo e l'arte quanto e come viene percepito dal pubblico nel senso dai vostri clienti da chi si interessa alle vostre barche e quanto contribuisce anche magari a far crescere ad acculturare chi sceglie i vostri prodotti noti questo tipo di riverbero di ritorno assolutamente sì noi abbiamo un pubblico chiaramente fatto da grandi imprenditori di successo che spesso hanno già di base un amore per l'arte sono grandi collezionisti e ritrovarci in questi luoghi così esclusivi e così di grande qualità come quelli che vi ho elencato prima li rendono ancora più sensibili al nostro mondo e non a caso ritornano a prendere altri San Lorenzo negli anni sempre più importanti l'arte secondo me è uno dei punti che ha costruito ulteriormente un'immagine forte di San Lorenzo oltre a essere leader nel mondo del design contemporaneo gli altri cominciano a seguirci perché hanno capito che l'attenzione verso un immaginario non così stereotipato come quello che era prima dà i suoi frutti e essere presenti anche in questi momenti secondo me ci aiuta ulteriormente a crescere con l'immagine senza dubbio senti tu un giorno di questi mentre costruivamo questo percorso hai mandato una foto del tuo studio che è uno scaffale in pratica con una scrivania in mezzo uno scaffale pieno di cataloghi riviste art design arriva la domanda quindi diciamo così il tuo background è abbastanza già ricco c'è qualcosa che invece un qualche spunto che ti è arrivato grazie alla tua attività con San Lorenzo qualcosa che magari non hai portato tuo San Lorenzo ma che hai incontrato strada facendo io sono rimasto incantato dalla complessità della costruzione di uno yacht e dalla sinergia tra questi artigiani bravissimi che riescono in poco tempo a creare un pezzo unico perché le nostre barche sono dei pezzi unici ogni barca è un dialogo costante tra il designer il nostro ufficio tecnico gli ingegneri che mettono dei paletti giustamente perché devono essere anche funzionali le nostre barche e realizzare tutte queste cose questo oggetto così complesso che per me non è mai abbastanza pagato poi la realtà quando ho visto la complessità di queste costruzioni è veramente mi ha arricchito perché io non immaginavo che si potessero in un anno fare una barca completamente da zero con tutte le attenzioni verso il cliente il cliente noi dopo che ha scelto le prime cose principali della barca i materiali fondamentali il layout anche questo è un percorso che forse facciamo solo noi almeno fino adesso prendiamo il cliente e lo portiamo a Milano alla capitale del design gli facciamo vedere i migliori showroom e se c'è la possibilità gli raccontiamo cosa c'è dietro questo tavolino interessante perché l'ha disegnato questo signore negli anni 60 tu prova questo divano però provalo ergonomicamente ma ti racconto anche chi l'ha disegnato e perché l'ha fatto in questa maniera facciamo un racconto anche della storia del design e poi la sera se hanno tempo e possibilità li portiamo a vedere il Macbeth alla scala e rimangono incantati oppure l'Hungerby coca le torri di Kiefer e rimangono incantati perché non si immaginavano alla fine di un viaggio c'è un mio collega qui che si ricorda ancora questa cosa c'era un grande architetto messicano che gli facevo girare per tutto il giorno i migliori showroom era un po' stanchino e gli ho detto e poi mi vede invece che andare verso il Four Seasons andammo in periferia e lui dice ma Sergio ma che stiamo facendo io voglio tornare in hotel se non sta gli faccio vedere le sette torri di Kiefer è rimasto incantato Sergio chapeau grazie per avermi oppure li portiamo a vedere la fiscella di frutta del Caravaggio alla Pinarcoteca Ambrosiana o il cartone originale di Raffaello in scala reale che è completamente è completamente autografo di Raffaello rispetto alla fresco che poi ha fatto con gli allievi a Roma quindi sono tutte chicche che rendono l'Italia unica oltre che mangiare bene nei migliori ristoranti di Milano ma questa connessione anche con l'arte e con il racconto del cos'è la storia del design italiano rende poi ci sono quelli che sono innamorati del design vintage quindi li portiamo a vedere i pezzi originali anni 60 anni 70 e poi anche le migliori gallerie d'arte insomma è un percorso che affascinano affascina questi armatori e che non vedono l'ora di rifare a breve per un'altra barca che a noi che fa solo piacere senti vengo oggi a questo che San Lorenzo fa sia rispetto ai designer agli artisti che anche con queste piccole attenzioni è in qualche modo una forma di mecenatismo importante e allargo la domanda sulla tua competenza e conoscenza quanto le aziende oggi sono ancora capaci di avere questo sguardo cioè di essere mecenati cioè di promuovere l'arte anche magari non per un fine immediato per un ritorno immediato c'è questa capacità o ce la siamo persa? diciamo che sono cambiati un po' i mecenati negli anni adesso l'arte diciamo l'arte viene molto assorbita dalla moda o meglio la moda ha bisogno molto del contenuto che può creare l'arte che possono fare il dialogo che si può creare e anche l'immagine l'immaginario di un artista per un brand estremamente interessante e questa cosa è accaduta già agli inizi più insomma già verso i primi anni 2000 ci sono state delle collaborazioni molto chiare molto però anche anche un po' più ovvie per esempio non so le vitrine di Louis Vuitton con Ors Fischer piuttosto che Olaf O'Reliasson eccetera e adesso il mondo è molto più complesso i linguaggi sono anche molto più insomma anche molte più latitudini si sono interessati a questo tipo di collaborazione e non so se definirlo un mecenatismo ecco perché si tratta comunque anche di un'azione mediatica chiaramente però forse lo era anche nel nel 400 in realtà in un modo completamente diverso quindi noi ci rimaniamo sempre sbalorditi da questo alcuni dicono che l'arte è sfruttata dalla moda però diciamo che io non so non sono d'accordo perché penso anche che se non ci fosse stato quel progetto probabilmente quella opera o quell'artista non sarebbe stato riconosciuto conosciuto insomma a un livello più globale faccio proprio l'esempio di Christian Dior della Maria Grazia Chiuri che da 2016 ha preso in mano come direttrice creativa la Maison e lavora con artiste femministe di cui credo che solo veramente mio padre forse conosceva i nomi davvero purtroppo per cui ho pochissimi altri quindi una una funzione di volano di conoscenza l'azienda la porta Miralla Bentivoglio piuttosto che anche la Tommaso Binga sono artiste che penso che veramente pochissimi voi probabilmente le conoscete però diciamo che nel mondo poi femministe italiane che hanno avuto a che fare con hanno avuto pochissime opportunità perché adesso hanno 80 90 anni addirittura Tommaso Binga e sono ancora in vita fortunatamente sono riuscita ad avere una voce in modo completamente inaspettato e diverso in modo anche se vuoi più cotonato più plastico possiamo dire quello che vogliamo però intanto adesso anche il loro mercato è salito quindi diciamo è una forma un po' mecenatismo ma penso che questo forse lo è sempre appunto stato perché se pensiamo a Michelangelo faceva cioè sicuramente ha avuto dei ritorni d'immagine ecco chiamiamoli così non indifferenti ancora abbastanza diciamo visibili dai sì direi di sì però ecco sì diciamo anche i collezionisti hanno una forma di mecenatismo sicuramente molto molto interessante soprattutto magari collezionisti un po' più spinti verso proprio a voler creare anche una loro legacy con l'arte contemporanea o moderna insomma con l'arte in generale creano fondazioni poi dopo chiedendo appunto degli artisti di lavorare in progetti su progetti ad hoc per loro e chiaramente sostenendo poi il loro lavoro anche negli anni per cui sì il mecenatismo esiste sicuramente in varie forme fortunatamente senti Sergio passerei a quello che è il tema che accompagna tutto questo nostro percorso che è quello della sostenibilità Massimo Perotti lunedì ha raccontato tutto quello che San Lorenzo Industria sta facendo su questo fronte e volevo chiedere anche a te invece una chiave di lettura per quello che è il tuo campo la tua ottica quindi dal punto di vista dello stile del design quanto e come i temi della sostenibilità si arricchiscono attraverso queste collaborazioni quindi che cosa il designer porta sotto questo aspetto ma io vedo una sensibilità particolarmente accentuata in questi ultimi anni da parte di questi bravissimi designer che abbiamo coinvolto e sono come raccontava anche Patrice Orchiola sono tutti attenti a fare loro nuovi progetti con l'attenzione assoluta verso il materiale che deve essere o riciclato o riciclabile e questo poi porta anche a un linguaggio nuovo nel mondo delle forme del design ma come raccontava anche Massimo Perotti ormai è una necessità assoluta non possiamo solamente riempirci la bocca di sostenibilità e non farla veramente perché come lui raccontava in maniera più specifica anche sui sistemi di propulsione sul rapporto in esclusiva con Siemens per queste nuove forme di motori che renderanno molto più green le barche ma la stessa cosa nel design secondo me io lo vedo anche al Salone Immobile tutte le aziende sono sensibili a questi temi e di conseguenza i loro prodotti che vengono realizzati da questi designer mutano tramite queste attenzioni che sono fondamentali per riuscire a far sopravvivere questo pianeta a proposito di questo tu all'inizio hai già un pochino introdotto questo tema abbiamo visto che mondo dell'arte stanno emergendo anche voci per esempio Venezia con l'artista africana nel senso di altri mondi che hanno altre sensibilità forse più vicine a quelli che noi chiamiamo sostenibilità in senso tecnico e invece vengono vissuti in un altro modo c'è questa spinta in più ci sono questi altri mondi che ci stanno insegnando qualcosa sotto questo aspetto stando al mondo dell'arte ovviamente quindi che cosa ci trasferiscono comunque è bello questo parallelismo navigazione arte appunto come dico i mondi siamo in un mare aperto quindi qui andiamo navighiamo a vista esatto ma tra l'altro parlando appunto di mare sì ci sono delle realtà molto veramente molto forti molto interessanti a livello di sostenibilità nell'arte a livello globale però appunto mi viene subito in mente pensando anche al rapporto con il mare questo ocean space di Venezia che appunto fa proprio una ricerca attraverso l'arte quindi chiamando degli artisti che lavorano proprio sullo studio degli oceani a creare delle opere per sensibilizzare appunto ciò che sta accadendo ai mari o ciò che è sotto il livello del mare che noi possiamo vedere per cui hanno dei studiosi che insieme agli artisti vanno in avanscoperta in mare proprio e fanno degli studi proprio molto scientifici anche e quello per esempio per me è forse veramente un progetto molto prima di tutto molto serio e poi inizia ad avere proprio anche una comunicazione molto forte anche con il resto del mondo quindi non so lavorano insieme poi a Vienna che poi lavorano con New York insomma si collegano poi vari mondi e insieme fanno queste esplorazioni marine per esempio quindi trovo incredibile in modo che così non vanno troppe navi appunto barche in giro proprio per anche di nuovo evitare troppo traffico marittimo però appunto ci sono anche diciamo realtà più istituzionali forse in Italia siamo di nuovo un pochino indietro rispetto magari a delle altre realtà però anche dal MoMA al New Museum o anche ai musei a Shanghai che purtroppo adesso sono chiusi e anche in Africa appunto c'è molta sensibilizzazione c'è un museo scusate a Cape Town in realtà Sud Africa che sta facendo proprio una ricerca su come riuscire appunto a lavorare solo con artisti locali per affrontare insieme comunque i problemi ambientali del luogo per cui diciamo ci sono sicuramente c'è molta volontà soprattutto da parte degli artisti come dicevo prima ovviamente adesso la situazione è diventata molto delicata è urgente e quindi la stanno prendendo in mano diciamo la maggior parte delle istituzioni principali d'arte muovendoci appunto in mare aperto tu Sergio sei una pallina impazzita tra eventi d'arte di tutti i tipi quindi adesso sei da Venezia passi da Milano vai a Basilea poi va la scala scala sì diciamo qui è ancora è ancora un triangolo facile da gestire quello che ti volevo chiedere partendo dalla chiacchiera dall'intervento di prima è guardando al mondo dov'è che tu ti stai orientando per cercare magari nuovi spazi di ispirazione nuovi volti nuove voci nuove mani che portino valore aggiunto a San Lorenzo io chiaramente ho una conoscenza di tutto il mondo del design più ritengo più interessante più di ricerca e non a caso domani mattina alle 8 prendo un grandissimo designer non vi dico il nome ormai me lo porto in cantiere per affascinarlo di quello che è la realtà di questi nostri cantieri per una possibile ispirazione abbiamo un patrimonio di linguaggi pazzeschi quindi ma anche la strategia di San Lorenzo di essere presente al Salone del Mobile con un'installazione che vi invito ad andare a vedere questa sera tutta illuminata tra l'altro all'università nel cortile d'onore lo raccontava bene anche Piero Vissoni durante la conferenza stampa la sua ideazione lui l'ha chiamata fabbrica non ha portato uno yacht lì a fare show off no ha portato i ponteggi con cui noi avvolgiamo questo manufatto che incredibilmente in un anno un anno e mezzo o due o più alla fine tiriamo fuori come un oggetto straordinario però lui ha detto anche la sostenibilità e fare queste installazioni semplicemente prendendo una parte dei ponteggi che abbiamo infiniti nei cantieri li mettiamo qui li rendiamo scenograficamente ancora più affascinanti con queste luci blu che di sera ieri sera abbiamo fatto anche un concerto jazz e questo materiale non lo buttiamo via lo prendiamo e lo riportiamo a fare di nuovo il suo lavoro in fabbrica ed è emblematica anche questo racconto di che cosa ci sta dietro a un oggetto che non c'è poi alla fine ma c'è il lavoro di tutti questi artigiani c'è una bellissima foto di Plisson un fotografo francese bravissimo che a un certo punto fece mettere sui ponteggi e si vede tutto il fianco di un 64 metri tutti gli artigiani mano nella mano e c'è questo intreccio di mani che alla fine danno la qualità che a noi serve ma se non c'è il dialogo tra tutti questi artigiani non si salta fuori e la magia è quella riuscire a far dialogare le esigenze tecniche le esigenze stilistiche le esigenze funzionali e alla fine facciamo questi manufatti di una bellezza assoluta senti chiudiamo guardando un attimino in avanti un pezzettino di questa di questa attività che abbiamo costruito come works e ICA riguarda anche quello che fanno i ragazzi dello IED quindi i giovani diplomandi nell'ideare nuove soluzioni stilistiche ma anche sostenibili inizio da GEA chiedendo questo quanto questo fermento giovane spesso anche giovanissimo sta portando nuova linfa al mondo dell'arte poi veniamo invece a capire che cosa porta all'industria tra l'altro IED ha proprio un corso Yacht Design e qui sotto abbiamo non a caso i video dei lavori di anni di IED che ogni anno interpretano fanno delle tesi sui possibili intirio dei possibili armatori ipotetici che loro creano e c'è grande qualità e non a caso assumiamo persone dallo IED come dal Politecnico come dal Polo Nautico di La Spezia perché queste collaborazioni che teniamo da anni portano ad avere poi personale di giovani di grande qualità e appassionati io dico sempre una cosa che vi farà ridere io dico che i giovani hanno sempre ragione perché primo perché non sanno ancora cosa stanno dicendo molto spesso quindi possono buttarsi avere questo coraggio di dire qualcosa che non è del tutto confermato quindi questo già è molto affascinante sempre secondo me i giovani diciamo noi abbiamo lavoriamo solo con persone veramente molto giovani tra l'altro io sono adesso la più vecchia lo dici quasi con dispiacere per questo motivo no lo dico perché mi dispiace dire che non lavoriamo anche con persone no lavoriamo con persone di ogni età però nel nostro ufficio adesso io sono la più anziana e insomma diciamo che gli altri sono tutti classe 96 92 93 quindi sì sono veramente queste menti sono necessarie per portare avanti il discorso poi di un magazine perché ogni 3-4 anni noi dobbiamo proprio cambiare molto la direzione il discorso anche proprio come è pensato un magazine no dobbiamo sempre davvero porci delle domande perché il mondo dell'editoria come sapete è molto complesso ha tantissime difficoltà veramente per poter no riuscire a ad essere sul mercato in modo visibile quindi per noi le nuove generazioni sono sempre fondamentali anche perché ti spostano quella quella visione che tu ormai hai fissa da sempre perché hai sempre fatto quello in quel modo e sicuramente anche le gallerie rischiano di più selezioni è cambiata volevo dire non a caso poche settimane fa Massimo Perotti ha avuto l'intuizione la necessità che teneva molto importante di convocare 250 giovani sotto i 30 anni che lavorano per San Lorenzo e fare un incontro solo con i giovani che erano entrati in azienda da un anno due eccetera per fargli percepire la complessità di dove stavano lavorando non solamente la cosa specifica che magari facevano perché lui riteneva importante far immergere questi giovani che hanno grandissima passione ma che magari non avevano percepito quanto era complesso il mondo di San Lorenzo dove si stava spostando cosa aveva fatto e ha fatto un bellissimo intervento che ha affascinato questi 250 giovani che erano per San Lorenzo sparsi per i quattro cantieri questo per dire l'attenzione perché chi lavora in San Lorenzo ed è un giovane magari non riesce a percepire quanto è complessa la struttura in cui sta lavorando e farli partecipi di queste cose li ha resi molto più consapevoli e molto più ispirati perché di base hanno una passione infinita verso quello che stanno facendo noi gli scegliamo proprio anche in base alla passione che hanno oltre che le competenze specifiche e questa attenzione di massimo è stata molto apprezzata mi pare di capire che non manchino i giovani che vogliono avvicinarsi a un mestiere con la valigetta del 1648 quello che è sta continuando insomma è già arrivato il giovane che ti manderà in pensione assolutamente va bene il tempo è scaduto io vi ringrazio ringrazio Sergio ringrazio Gea ringrazio tutti i presenti e vi invito a rivederci domani sera per continuare questa navigazione in mare aperto se avete l'app provate a inquadrare il QR code anche da qui grazie grazie